Direttissimi figli, vi benediciamo e vi salutiamo dalla nostra venerabile casa e vi proponiamo un rito propiziatorio per la nascita del nuovo governo. Ripetete dopo di noi le seguenti esoteriche ed evocative parole. A queste parole misteriose aggiungete le seguenti espressioni evocate dalla bocca del bulletto toscano, del lebetino, del bomba. Shock, shock, perché... Vi aspetto amici, vi aspetto su Facebook, mi raccomando non guardate i messaggi della Meloni e neanche quelle di Salvini, ma soltanto quelle del sottoscritto, vi aspetto. Il rito propiziatorio si è concluso, vi benediciamo e vi salutiamo a voi discepoli dalla nostra venerabile casa. Alla prossima! A presto! Alla prossima! Alla prossima! Grazie.